Vorrei subito chiamare accanto a me un personaggio amatissimo da tutti gli italiani e non solo, Gianni Nazzaro! L'unico artista al quale Baglioni ha fatto cantare a modo mio! A modo mio! A modo mio, a modo tuo hai cantato! Beh, una bella soddisfazione, si parla ovunque e dovunque di Baglioni del festival che è passato da qualche settimana, Sì, è rinato il festival secondo me, è rinato l'interesse per il festival da parte del pubblico e anche da parte di chi parteciperà ai prossimi ferri e si è riacceso, perché per un attimo era andato in ombra Ecco, e quindi è tornato alla luce È tornato alla luce Senti, ti ho voluto accanto a me subito in apertura, intanto per il piacere di farti salutare quindi dal tuo pubblico meraviglioso